Anche quest'anno siamo contenti di invitarvi alla settima edizione di Alta Trail 2021 ad Arenzano, Villa Figoli, partenza dalle 8 e mezza alle 10 e mezza. Una grande novità, un percorso per famiglie con passeggini che attraverserà i parchi storici di Arenzano, unito ad altri due percorsi, uno per famiglie comunque, non con passeggini, che sarà di una lunghezza di 4,5 km e un altro un po' più lungo per amanti del trail, ma anche camminando si può fare, sui monti di Arenzano e sul versante di Terra Rossa che è suggestivo panoramico, bellissimo, io l'ho fatto e ve lo consiglio a tutti perché è molto molto bello. Le prescrizioni sono in via Bocca tutta la settimana e anche il giorno della camminata potrete iscrivervi e comprare il biglietto. Siamo l'associazione Tutti per Atta, da anni attivi sul territorio, noi sosteniamo un progetto importante che è quello di aiutare le famiglie dei bimbi ricoverati e in cura a gaslini. Abbiamo due grandi progetti in corso adesso, oltre ad altri che abbiamo concluso, uno che prevede di dare a disposizione delle famiglie ricoverate al gaslini, ma anche di quelle in cura a gaslini, tre appartamenti a Arenzano, totalmente a carico nostro e stanno funzionando benissimo e li abbiamo riconfermati fino a giugno del 2022. Il secondo progetto che è adesso in atto, che è quello della realizzazione di un parco giochi all'interno del gaslini, proprio per permettere ai bambini che sono in cura, che stanno facendo terapie, chemioterapie, radioterapie, eccetera, per malattie difficili e importanti, di giocare durante il ricovero, perché era un parco che negli ultimi anni non aveva la manutenzione adeguata e lo stanno rifacendo totalmente con giochi, verde, con alimentazione e questo ci rende molto felici. L'inaugurazione sarà nei prossimi giorni e quindi noi vi chiediamo di sostenerci, di essere con noi, di partecipare, perché la partecipazione è la nostra più grande gioia, e quindi vi aspettiamo sabato 18 settembre ad Arenzano, in Villa Figoli, a partire dalle 8.30. Grazie.